Il Pescara sta per abbandonare uno dei suoi principali obiettivi di mercato. Federico Melchiorri diventerà un nuovo attaccante del Perugia. Dopo settimane di corte serrata da parte di più club, il centroavanti maceratese di Treia ha scelto Perugia, una destinazione che gli permette di essere vicino casa, il che era una esigenza del giocatore. La trattativa non semplice con il Cagliari e l'ingaggio decisamente alto dell'attaccante sono stati gli ostacoli che hanno impedito al presidente Sebastiani e al DS Leone di affondare il colpo, come del resto è successo al Carpi, altra pretendente, squadra dove peraltro Melchiorri ha militato nella seconda parte dell'ultimo campionato. Nelle prossime ore, salvo colpi di scena, il giocatore firmerà un triennale, così quello del centroavanti resta il rebus principale per il Pescara. Bruno Petkovic del Bologna rimane un obiettivo. Nelle ultime ore è di nuovo venuto fuori dai rumors di mercato anche il nome di Luca Vido che periodicamente torna ad essere accostato ai Biancazzurri. Molto stimato da Zeman, Vido nell'ultima sessione invernale aveva preferito poi tornare in prestito alle Cittadella, ma sempre dall'Atalanta l'obiettivo prioritario ha le sembianze di Gaetano Monachello, vecchio pallino del DS Luca Leone che lo aveva portato a Lanciano nella stagione 2014-2015 e che ora gradirebbe averlo con sé in riva all'Adriatico. Dopo il buon girone di ritorno disputato ad Ascoli, l'asse con l'Atalanta resta fortissimo, tanto che la dirigenza Biancazzurra ha già da tempo chiesto al club aerobico il rinnovo del prestito di Cristian Capone e poi ha buttato gli occhi sul centrocampista centrale Filippo Melegoni, giocatore di buona struttura e di grande prospettiva, classe 99. Sia Capone che Melegoni sono ora impegnati nei campionati europei Under-19 e qualora il Pescara strappi il sì dell'Atalanta, i due gioiellini saranno a disposizione di Pilon solo dopo il ritiro di Palena. Nelle prossime giornate si attendono le soluzioni per altre due vicende di mercato che riguardano i Biancazzurri. L'esterno Gennaro Tutino sembra sempre più lontano dal Pescara, visto che il DS del Napoli Giuntoli lo sta spingendo verso il Carpi. Il baby della Roma Mirko Antonucci dovrà sciogliere le riserve, il club giallorosso e il Pescara sono già d'accordo. Negli ultimi giorni c'è stato l'inserimento dell'Ascoli che sta facendo tentennare il ragazzo.